Buonasera a tutti, conferenza post gara di Taranto Sorrento a vostra disposizione c'è mister Ezio Capuani Buonasera mister, allora commettiamo questo 0-0, è stato il solito Taranto, partito anche bene, tantissime occasioni ha trovato una squadra, il Sorrento, molto ma molto più in difesa hai cambiato più volte anche questa volta il sistema di gioco, hai messo il giocato col topio centroavanti che cosa possiamo dire alla fine? Però entriamo nel discorso tecnico, cosa è mancato? la lucidità sottoporta, l'ultimo passaggio, cosa è mancato? Un po' di brilladezza di alcuni calciatori forse un po' anche al centro campo, andiamo nello specifico tecnico, grazie Ma per quanto concerne la partita penso che c'è da di poco, sì magari qualcuno sottotono ma è stato il solito Taranto, voglio dire abbiamo sbagliato l'inverosimile cioè di solito io ho studiato il Sorrento, una squadra propositiva, invece ha cambiato sistema di gioco si sono messi lì dietro, però queste partite sai a volte le puoi anche perdere perché quando sbagli l'inverosimile loro non sono mai venuti su di solito è una squadra che propone costruzione bassa io lo sapevo infatti quando ho visto la distinto ho detto si sono messi 3-5-2 cioè 3-5, 5-3-1-1, quindi hanno cambiato totalmente, però ci hanno concesso anche tanto siamo stati bravi noi, noi abbiamo fatto secondo me la partita che dovevamo fare abbiamo aggredito, abbiamo accorciato, abbiamo cambiato sistema di gioco poi sai quando sbagli l'inverosimile perché abbiamo sbagliato l'impossibile cioè voglio dire qualche gol abbiamo sbagliato addirittura contro la fisica perché è impossibile non tenere la palla bassa lì a un metro dalla porta però può succedere, io ai ragazzi posso fare soltanto i complimenti cioè è stato sempre il solito Taranto mai arrendevole, ci ha creduto fino alla fine li abbiamo tenuti sempre bassi, abbiamo spostato palla da destra a sinistra diciamo che loro sono stati fortunati, con grande onestà io sono molto schietto, molto sincero, complimenti a loro hanno sofferto per tutta la partita, però voglio dire gli è andata bene gli è andata bene perché ci hanno concesso tanto noi siamo stati bravi nel creare tantissimo però quando non la metti dentro non vinci però per me resta una prestazione l'ennesia molto importante e quindi ai ragazzi posso fare solo i complimenti Buonasera mister, Maurizio Cottoci.com vista questa soluzione del doppio centroavanti Simeri De Marchi, lei la considera una soluzione solo da partita in corso o si può nel caso addirittura prevederla dal primo minuto? No, si può fare tutto, noi abbiamo tanti giocatori bravi l'ho sempre detto, siamo una squadra camaleontica che può cambiare sistema di gioco però noi siamo molto attenti nel rompere gli equilibri di una partita nel cambiare la struttura, ho messo il doppio centroavanti portando Bifulco tra le linee dove non lo leggevano più e lì magari l'avessimo vinta in maniera straveritata avremmo fatto un'altra bella cosa però ripeto abbiamo più giocatori che possono coesistere insieme ce ne abbiamo da, mi dispiace che Fabbro non ha preso parte alla gara perché non avevo più diciamo dinamiche da poter farlo entrare perché avrei strasbilanciato la squadra infatti a un certo punto Totto Calvano che era morto in mezzo al campo non si era proprio per paura voglio dire che ci potessero prendere e con grande onestà quando ho messo Bifulco tre quarti perché eravamo molto larghi non eravamo più stretti con i due quindi ho preferito magari coprire in verticale e poi voglio dire la partita penso che l'avete vista tutti complimenti sicuramente al sorrendo perché ha fatto una partita di sofferenza una partita voglio dire di compattezza però con grande onestà si strameritava di vincere quando crei tantissimo e noi dovevamo far gol dopo due minuti con la doppia occasione Matera Panico sulla linea lì l'idea fa gol li abbiamo tenuti sempre bassi la soddisfazione è che questa è una squadra che unque è andata anche a Benevento ha proposto gioco qui ha fatto fase di distruzione bassa quindi vuol dire che noi siamo una squadra forte Luigi Guerreri a Zello Sport tu hai fatto ieri un appello molto accurato nei confronti della tifoseria hai detto venite allo stadio cercate di sostenere questi giocatori però è stato non lo so io l'ho trovato un po' strano come richiesta cioè tu credi che il gruppo stia pagando le vicissitudini? no assolutamente no perché noi abbiamo fatto due grandi prestazioni se fosse andata una delle tante occasioni che abbiamo creato lo staremmo parlando in maniera diversa no assolutamente il pubblico lo ringrazio perché onestamente ci ha spinto fino all'ultimo secondo e noi abbiamo cercato il gol fino alla fine voglio dire non mi sembra che la squadra era distratta anzi la squadra ha fatto una prestazione importante c'è stato qualche giocatore che era sotto tono su questo non c'è ombra di lunghi l'ho sostituito perché poi parlare è molto facile bisogna entrare nelle dinamiche bisogna entrare nelle dinamiche qualche giocatore era molto sotto tono mi aspettavo molto di più questo ci può anche stare però abbiamo chiedo scusa abbiamo fatto le sostituzioni che andavano fatto però non penso che si può dire di una squadra distratta nella maniera più assoluta buonasera mister vito di noi buonasera una domanda tattica innanzitutto loro erano 3-5-2 5-3-2 5-3-2 3-5-2 è diverso un piciello colombini che comunque erano abbastanza bassi però molto bene il Taranto poi nel soffocare quelle poche occasioni che hanno provato a creare con De Francesco che è il loro mediano quindi era un qualcosa che avevi studiato già durante la settimana lo aspettavi questo atteggiamento? io mi aspettavo onestamente con grande onestà che loro palleggiassero di più perché ogni volta che li ho visti gioare sempre costruzione bassa invece quando gioano contro di noi cambiano tutti ma questo è un merito che faccio al mio collega nella maniera più assoluta e quindi magari questa pressione di spinta la potevamo fare poco però secondo me abbiamo fatto molto molto bene poi ognuno può interpretare la partita come vuole e quando si fa il risultato bisogna dare meriti all'avversario come in questo momento io li sto dando mi sarei aspettato che avessero fatto una partita diversa come hanno sempre fatto vuol dire che a noi ci temono ci ritengono una squadra importante però Vito con tutto ciò io non so quanti occasioni da gol abbiamo create quindi con tutto che loro erano bassi noi andavamo in ampiezza venivamo in verticale li abbiamo presi tante volte in due occasioni secondo me siamo stati troppo altruisti perché in due occasioni lì può tirare Simeri nell'aria piccola invece di fare sponda voglio dire poi ci sono state altre occasioni non me le fate rimembrare l'occasione di De Marchi secondo me contro la fisica cioè lì non puoi a due metri dalla porta non prendere la stessa il calcio è fatto anche di queste cose però io al ragazzo non posso rimproverare nulla anzi come a tutta la squadra sicuramente c'è stato qualche giocatore che mi aspettavo di più ma ci sta voglio dire qualche giocatore che magari è sotto tono prego salve mister Alessandra Carpino Taranto buonasera io vado su un focus anzi due focus molto rapidi per quel che concerne la scelta del del trittico offensivo iniziale precisamente Orlando meno esplosivo di quando lo inserisce in corso d'opera e Simeri che ha fatto un grandissimo lavoro dal punto di vista della concretezza in secondis mister le sostituzioni a centro campo che hanno cambiato comunque come metamorfosi della nevralgica che hanno cambiato il Taranto in secondo tempo è inciso di più Orlando secondo me è devastante a partita in corso quanto gioca dall'inizio proprio per questo modus nostro operanti di attaccare la profondità magari su ritmi alti fa un pochettino più fatica però Ciccio è un ragazzo eccezionale stasera stasera ha fatto fatica su questo non ci sembra come ha fatto molto fatica Matera quindi abbiamo sostituito per quando concerne Calvano Calvano in un periodo dove si allena poco ha grandi problemi e l'ho sostituito ho fatto delle sostituzioni magari qualcuna anche sprecata qualcuna abbiamo per cambiare modulo e l'abbiamo fatto bene abbiamo creato però ho fatto due sostituzioni ruolo per ruolo che di solito non faccio se le ho fatte vuol dire che chi stava gioando non stava facendo bene Simeri ha fatto una grandissima partita Simeri Simeri cresce partita dopo partita Simeri ha fatto una partita anzi secondo me è stato fin troppo altruista perché due volte può calciare magari fa gol invece l'ha messo in porta il compagno nell'aria piccola e non si è fatto gol Buonasera la fase involutiva di Canutè negli ultimi partite forse sta pagando di aver tirato molto la carretta durante il giorno Canutè quando si arriva in questo periodo voglio dire magari tanti a casa non lo sanno magari nemmeno allora non fatemi andare oltre quindi infatti io ero insicuro se farlo gioare dall'inizio o meno quindi purtroppo questa tipologia di giocatore quando arriva questo periodo l'hai detto tu quindi c'è questa problematica notevole si sarà bene però hanno degli orari per mangiare ma non è solo lui tutti i giocatori voglio dire bene liberiamo il mister